Amici di Pomodero, ben trovati. Sono appena ripartite le prenotazioni della campagna 2021. Ricordiamo Pomodero, la passata solidale, biologica, libera d'altro provato, che all'interno c'è una rete di produttori, c'è l'operativa di freddiscarco, un solo mondo, cooperativa scrittivina e terra d'incontro, e quest'anno c'è una grande novità. La passata che prenoterete sarà trasformata nel nuovo laboratorio, quindi è bene conquistato, proprio sul laboratorio di regalità Francesco Lattori, dove faremo inclusione sociale, inclusione lavorativa, e produrremo l'intera vita. Quindi, non mi rimane per dirvi, prenotate www.pomodero.it. Pomo Vero, passata per te, futuro per tutti.